L'amministrazione comunale di Teramo ha presentato lo studio di fattibilità per il nuovo polo scolastico Renato Molinari, un progetto che prevede la demolizione e ricostruzione dell'attuale edificio con un investimento di 9 milioni di euro, messi a disposizione tramite l'ordinanza Teramo firmata dall'allora commissario per il post-sisma Giovanni Legnini. Tempistiche sono legate ovviamente alla ricostruzione, all'adeguamento sismico, miglioramento sismico della scuola San Giuseppe e della scuola Savini. Attualmente la scuola Molinari è occupata dai ragazzi che prima erano allocati all'interno di quelle scuole, non appena i lavori saranno ultimati sia delle due scuole potremo ragionare sull'abbattimento e la ricostruzione del nuovo polo scolastico, dell'unico polo scolastico che avremo a Teramo che sarà quello della Molinari. È un progetto ambizioso, avverinistico che ovviamente rispetto a un adeguamento, un miglioramento sismico, ci consentono di poter veramente andare a realizzare una scuola che guarda al futuro e non guarda diciamo alla storia passata. Questo importante intervento mira a creare un ambiente educativo moderno e sicuro, capace di ospitare dal nido la scuola secondaria di primo grado. E che prevede una serie diciamo di spazi che le vecchie scuole, le scuole esistenti non avevano e quindi voglio dire un progetto ambizioso, anche sotto un profilo energetico, non solo energetico, ambientale, sotto tutti i profili. E inoltre l'aspetto ulteriormente accattivante è anche quello che la scuola si va ad inserire all'interno del quartiere, di quel quartiere che prevede sia un'urbanistica di edilizia economica e popolare, ma anche di un'edilizia civile importante che in qualche modo potrebbe accogliere negli spazi della scuola anche quello che potrebbe essere la presenza dei cittadini di quel quartiere.